Per la pagina sportiva parliamo oggi di calcio con un'anticipazione della nuova puntata di Bar Eccellenza. Ah, insomma, un'avventura che è finita, non c'erano più le condizioni per proseguire. No, vabbè, devo dire che c'è un pizzico di spiacere perché non siamo riusciti a finire la stagione, nonostante, come in tutte le esperienze, le difficoltà che penso che servono anche per crescere. Noi all'inizio abbiamo avuto grosse difficoltà, poi pian piano con il lavoro, con il lavoro di tutti, siamo riusciti ad arrivare a un buon punto e forse nel momento migliore purtroppo è finita quella che è stata l'avventura della passata stagione. Ed è finita anche male perché abbiamo fatto quella partita famosa con la Varesina, dove contenti per quella che è stata la prestazione, non sicuramente per gli ultimi cinque minuti che ha stravolto un po' quello che è stato l'esito della partita, però anche lì è stata una bella esperienza insomma e ci abbiamo messo un po' a smaltirla, però ripeto alla fine tirando le somme credo che è stata un'annata positiva perché abbiamo finito sicuramente bene e raggiungendo anche quello che era un obiettivo sicuramente non facile. È stata un'esperienza sicuramente importante e formativa perché non avevo mai parte junior, ma non avevo mai lavorato con gli adulti, diciamo con i grandi e con i giocatori. Avevo già due giocatori importanti e veri, ce ne sono stati parecchi. Quindi l'esperienza è stata positiva, capisci delle cose, hai fatto degli sbagli sicuramente perché se uno lavora fa degli errori, perché è impossibile si fa tutto bene. Sicuramente ci saranno delle cose che non sono andate bene, però secondo me è sbagliato pure parlare di cose che uno vive dentro, lo spogliatoio, la famosa frase... Ma noi siamo qui invece per quello. Sì, no, però devo dire la verità, non c'è stata una cosa... Allora, parliamo, non è finita l'avventura per una cosa negativa, è finita perché piano piano si è fermato, ma non per l'incidente. Ecco, la macchina si è fermata, ma non perché c'è stato l'incidente. Adesso provi, vai, appoggia il microfono. Posso? Appoggia il microfono. Faccio vedere la mia tartaruga. Vai! Perchè ridi? Mica tutti sono Alessandro Marzio. Io infatti non alleverò mai, non sotto tortura. Dai, io mi lascio. Vai, vai, vai. Anche con la pagina sportiva abbiamo dunque terminato. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento insieme a Rete55. Grazie, arrivederci. Anche con la pagina sportiva abbiamo un buon proseguimento insieme a Rete55. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.